La mia vita, l'esperienza, il mondo, la condizione, tutto, corrisponde perfettamente all'ingegnamento è quello che dice che la finalità è l'evoluzione, questa è la via di tutta l'umanità, non è solo il praticante del giocente. Quindi il valore dell'insegnamento del giocente è supremo e che noi ci abbiamo veramente, dobbiamo utilizzare questo e lavorare bene. E quello diventa sicuro e diventa grande per tutta l'umanità, piano piano. Non è come un partito, ma è una via, una conoscenza che dimostra giorno per giorno come collaborare, come deve rispettare, eccetera. Questo è l'insegnamento che insegna, no? Semplicemente quando io dico sempre che deve collaborare, rispettare dimensioni dell'altro, deve sapere lavorare con circostanza, questi sono principi proprio. e quindi è un attenzamento e imparziato, perché si sono in questo modo, non è semplicitato io, ma anche se fosse un importante per uno che lo dice. È un attenzamento reale, è un attenzamento reale, eccetera. Ok, è un attenzamento reale, è un attenzamento reale, è un attenzamento reale, è un attenzamento reale. Grazie a tutti